Ciao a tutti e benvenuti. Vedo che a livello di mercato si tengono oggi vive due piste sul Milan, entrambe mondiali, entrambi ancora protagonisti dei mondiali, la pista Leao e la pista Ziyech. Sulla pista Leao si parla, si legge, si scrive di priorità data da Leao alla trattativa Milan e su Ziyech si parla, si scrive, si dice di contatti con il Chelsea, questo io leggo, come voi, e di operazione che può verificarsi soltanto in determinate condizioni. Oggi noi, due dicembre, più di un mese prima del ritorno in campo, non possiamo fare altro che registrare. Prendiamo atto che a livello mediatico si tengono aperte queste due opzioni, queste due piste. Vedremo quello che accadrà, vi ho già detto più volte nelle puntate precedenti, come la penso e quali sono le mie previsioni. Lasciatemi ricordare OneFootball, OneFootball è a vostra disposizione, la app di OneFootball la trovate nella descrizione di questo video, l'app di OneFootball è gratuita, scaricatela, vi aspetta, l'app di OneFootball è la casa del calcio streaming, l'app di OneFootball è assolutamente gratuita, tranne solo alcune partite di serie B e di serie C italiana, potete acquistare la singola partita senza necessità di abbonarvi, vedere la partita, finito tutto, e la fruizione gratuita dell'app di OneFootball prosegue. Scaricate l'app di OneFootball, la trovate nella descrizione di questo video. Volevo segnalarvi intanto una notizia che arriva da qui, arriva da derbyderbyderby.it, una notizia che trovo un po' pericolosa. Andiamo a scendere, eccola qua. Intanto c'è il derby di Riyadh per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, oltre all'Al Nasr si sarebbe mosso anche l'Al-I-Lal, l'altra squadra di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. Ma state con me su questa notizia. È una notizia appena arrivata da Madrid. Lo scorso settembre si è giocato il derby fra l'Atletico Madrid e il Real Madrid, e fin qui tutto bene, ha vinto il Real Madrid 2-1 come era un po' nelle previsioni. Ma in quel contesto gruppi di tifosi dell'Atletico Madrid, condannati poi dall'Atletico Madrid, comprese di posizione sui social, eccetera, l'Atletico Madrid che si era dissociato totalmente dai cori razzisti, in quell'occasione contro Vinicius, che qui vedete nella foto in azione nel derby contro l'Atletico, a Vinicius era stato urlato, sei una scimmia, Vinicius sei una scimmia. La procura di Madrid, non sto parlando di giustizia sportiva, sto parlando di giustizia ordinaria, la procura di Madrid ha archiviato tutto, dicendo che è impossibile, siccome erano un gruppo folto di persone, è impossibile incolparli tutti. I cori sono durati pochi secondi, e poi sono espressioni beffarde dettate dalla rivalità sportiva e non dal razzismo. Ragazzi, questa è la decisione della procura di Madrid, che definisce irrispettosi spiacevoli questi cori, ma che non costituiscono reato. Quindi, il razzismo in faccia ad un giocatore, sei una scimmia, sei una scimmia, ad un derby acceso come quello di Madrid, non è reato. Ora, è una decisione dei giudici, una decisione meritata, una decisione... Io non entro nel merito e non contesto, dico che è una decisione che sdogana molto, è una decisione che mi dà la sensazione di poter essere un liberi tutti, per quanto riguarda i cori beceri, nelle partite ad alto tasso di rivalità, come può essere un derby di Madrid fra Real Atletico, ma come possono essercene altri. Sempre su derbyderbyderby.it, di fianco alla notizia di Vinicius, c'è anche la notizia del derby delle Petralie. Che cosa sono le Petralie? Siamo in Sicilia, prima categoria di lettanti, alla fine di un derby tra Petralia Sottana e Petralia Soprana, il campanilismo dei derby è infinito nel nostro paese, vittoria del Petralia Soprana sul campo del Petralia Sottana per 2-1, un giocatore della squadra sconfitta si è un po' preso a livello verbale con un tifoso, la cosa poi degenerata, il giocatore uscito oltre alla rete di recinzione è andato a aggredire alla Cantona il tifoso avversario. La notizia che dà derbyderbyderby.it è che il club Petralia Sottana si è completamente dissociato e ha liberato, quindi ha chiuso il tesseramento del giocatore, quindi una decisione immediata. Ci sono anche notizie di mercato, ve le faccio vedere, il Barça, il Real Madrid, sono sulle tracce di Andrei Santos, che è un giovane del Vasco da Gama, un giovane di 18 anni, poi c'è anche una notizia dal derby di Soweto fra Orlando Pirates e Kaiser Schiff, due squadre assolutamente rivali, qui a Milano si discute di che cosa succede se Kessi va all'Inter, il Kessi di Soweto a Johannesburg in Sudafrica, si chiama Niabulo Blom, è un giocatore dei Kaiser Schiff, non sta rinnovando e potrebbero prenderlo gli Orlando Pirates. Il Milan giocò contro gli Orlando Pirates nell'estate del 1993, un amichevole con Fabio Capello, Silvano Ramaccioni e tutti i nostri giocatori che vennero ricevuti da Nelson Mandela. Rimanendo però sul derby di mercato per il giovane brasiliano 18 anni del Vasco da Gama, auguriamo ad Andrei Santos il meglio, ma lasciatemi ricordare che oggi 2 dicembre è il giorno dell'anniversario della consegna del Pallone d'Oro a Cacca. Era il 2 dicembre del 2007, quindi esattamente 15 anni fa, ed è clamoroso che siamo passati 15 anni perché ricordo tutto nitidamente di quella giornata. Era una domenica, quel 2 dicembre 2007, il primo dicembre 2007 sera il Milan aveva pareggiato 0-0 in casa con la Juventus, Milan che era sfavorito, la Juventus anche in settimane in Champions League aveva fatto meglio del Milan, il Milan era reduce da un 1-1 a Lisbona col Benfica, che in sé come risultato andava bene per la qualificazione, però c'era stato un nuovo infortunio a Ronaldo, Ronaldo è il fenomeno, e quindi c'era un po' di maretta mediatica attorno a noi. Pareggiamo 0-0 con la Juventus, ricordo delle belle occasioni di Cacca e Zedorf per il Milan, di Trezeguet per la Juventus, 0-0 il sabato sera, il mattino dopo di buon mattino partenza per Parigi. Siamo sull'aereo, eravamo sull'aereo della Fininvest con Cacca, con la società, con i genitori di Cacca e si va alla sede di France Football per ricevere il pallone d'oro. Pranzo nel centro di Parigi con il board editoriale di France Football, ricordo questa veranda splendida in una zona bellissima di Parigi, e poi a metà pomeriggio, 8-11, si torna in aeroporto, pioggia in nuvoloni bassi, pensavamo ci sarà un ritardo, l'aereo della Fininvest non era di grandi dimensioni. Facciamo una domanda, ma Adriano Gagliani ci gela, tranquilli, questo è un aereo che sopporta ben altro, partiremo in orario, arriveremo in orario. Ragazzi, siamo passati in mezzo a nuvole demoniache, ma non si è avvertita nessun tipo di turbolenza, probabilmente anche per le aderenze celesti di Riccardo Cacca, scherzo naturalmente. Poi l'arrivo a Milano, il pallone d'oro esibito in Piazza Duomo, insomma una giornata splendida, oggi il quindicesimo anniversario. Cioè tutto è più tardi perché proseguiamo la chiacchierata, questa volta in termini calcistici di Milan con Franco Ortina.